Bentornato negli studi di Temporadio al primo cittadino di Pozzolengo, di nuovo con noi Paolo Bellini, bentornato Sindaco. Buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono invitati a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105. Siamo anche in streaming su Facebook, quindi cercate la pagina Il Gazzettino Nuovo di Temporadio, ci potete tranquillamente seguire e anche scrivere. Allora, io vorrei subito parlare di un tema di Pozzolengo, noi abbiamo visto per esempio campeggiare la sua foto sui giornali, mi pare la scorsa settimana se non mi sbaglio, eccetera. Perché? Perché il Comune di Pozzolengo ha preso posizione riguardo una cosa che è un po' assurda, adesso mi fa sorridere, io chiedo scusa, capisco che voi siete arrabbiati come anche i sirmionesi, però mi fa un po' ridere, perché fino a qualche tempo fa la tangenziale che era finita e non si sa perché non aprissero, era chiusa e bisognava uscire per lo svincolo che adesso è chiuso, invece. Esatto. Cosa succede? Perché la tangenziale è quella che da desiderizzano va verso Peschiera, insomma. Mi dovrebbe partire da tempi piuttosto lontani, ecco qua che mi ricollego anche alla preoccupazione del discorso alta velocità, perché se i tempi al di là dell'opera sì, no, va bene, come, ma se i tempi di realizzo sono questi auguri. Questa è ancora la Euro 90, quindi questa benedetta tangenziale che andava a morire a Rovizza e che poi negli primi anni 2000 con Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Sirmione e Comune di Peschiera e naturalmente Regione Veneto e Provincia di Verona, tra le altre cose è stato aperto lo svincolo su Rovizza con la bretella che andava poi sulla strada statale 11 vicino a San Benedetto e tra le altre cose finanziata tutta in toto dal Comune di Sirmione, Provincia di Brescia e Regione Lombardia con l'accordo che nel momento in cui, che poi nel giro di 3-4 anni sentendo Veneto strada doveva essere terminato, quindi entro il 2008 doveva essere tutto terminato, aperto, fatto e c'era dentro anche questo famoso svincolo che serviva a Pozzalengo, che poi è sulla direttrice Brescia-Verona. Niente, sono stati terminati questi lavori che da Rovizza vanno al casello di Peschiera con tutto quello che ne concerne, grande sorpresa di tutti, lo svincolo per Pozzalengo non c'è, io sono arrivato naturalmente nel 2014, quindi io fino al 2009 ho seguito le varie vicende, poi fino al 2014 c'è stato questo buco, mi ritrovo a dialogare con Veneto strada dove mi dicono guarda che noi lo svincolo non lo possiamo fare perché non abbiamo i soldi, quindi se voi come Comune di Pozzalengo mettete i soldi e vabbè io assolutamente non avevo nessun tipo di disponibilità e qua inizia tutto il calvario, se così lo vogliamo chiamare, contatta Regione Lombardia, contatta Regione Veneto e non si parlano ma si parlano, Veneto strade incontra Veneto strade, dopo lo scoglio, sembrava che lo scoglio fosse recuperare, quindi avere i terreni, l'esproprio dei terreni che ho detto mi adopero io per poterli acquisire in maniera buon'aria, anche perché Pozzalengo, la gente la conosco io, andiamo, faccio io da supporto e da tramite e ci siamo incontrati più volte sia in Comune Pozzalengo quanto in Comune Peschiera perché il Comune di Peschiera ci ha prestato anche la sala, si è messo anche lui al tavolo delle trattative e alla fine sembrava che fosse tutto risolto, ho dovuto con la proprietà, con la più grande che poi la cascina Marangona che aveva dato la propria disponibilità a divenire un accordo e da lì, dal marzo di quest'anno, non abbiamo più saputo nulla, anzi abbiamo visto lo snodo riaperto, cioè la tangenziale aperta senza lo svincolo. La cosa poi fantastica, noi abbiamo continuato, mi sono incontrato con il sindaco di Sirmione, ho cercato di contattare Regione Lombardia, ho mandato una lettera anche a Regione Lombardia una a giugno e una a luglio e un'altra a agosto, per poi sentire questa famosa trasmissione Tempo e Denaro dove l'ingegnere Romanini di Veneto Strade l'unica cosa che ha saputo fare nella sua grande mente, nella sua grande lungimiranza, è quella di accusare in maniera plateale puntare dito contro il Comune di Pozzalengo dicendo che il Comune di Pozzalengo non ha fatto la variante urbanistica, il Comune di Pozzalengo non ha reperito le aree, non ha espropriato le aree, il Comune di Pozzalengo non ha firmato l'accordo di programma. Bene, per quanto riguarda la variante urbanistica credo che essendo anche un costruttore, essendo qualcuno che come Romanini, l'ingegnere Romanini che si muove all'interno delle istituzioni, secondo l'1.78 è variante automatico dello strumento urbanistico in due giorni, in una serie di consigli comunali la variante urbanistica si fa, ma questo non è l'oggetto secondo me la cosa più grave è che lui dice anche il falso, dicendo che noi non abbiamo firmato l'accordo di programma, tra le altre cose un accordo di programma che noi non abbiamo nelle nostre mani, perché questa cari amici è una lettera di trasmissione dei documenti da parte di Veneto Strade, datata 16 aprile 2011, dove in maniera chiara c'è la distinta di quello che viene mandato, piano particellare, planimetrie, frazionamento, visura catastale e tra le altre cose si dice, in allegato mandiamo tutti i documenti ad esclusione del verbale di accordi e quindi qui non c'è nessun accordo di programma, tra le altre cose a maggior testimonianza c'è una lettera anche della provincia di Brescia, dove dice, e anche questa ottobre 2013, dove dice ok andiamo avanti, attenzione che dobbiamo anche promuovere l'accordo di programma per la realizzazione del collegamento alla viabilità con noi di Pozzolengo, dobbiamo promuovere, quindi noi non abbiamo nessun accordo di programma nelle nostre mani da firmare tra le altre cose e ancora una volta quando dicono che loro hanno i denari, io non so, io spero che li abbiano, che non li abbiano usati in qualcos'altro, ma al sottoscritto di fronte a testimoni sono stati chiesti qualcosa come 500 mila euro per poter terminare l'opera e questo è l'oggetto del contendere. E come ho detto poi più di 15 giorni fa e non ho ancora ricevuto risposta, ho mandato una lettera piuttosto arrabbiata, se così lo vogliamo dire, a Veneto Strade e per conoscenza Regione Veneto e Regione Lombardia, dove lamentavo che non si può puntare il dito contro l'unico soggetto in questo caso debole, qui ci sono due regioni, due province, dei comuni forti e una società, tra le altre cose, partecipata da Regione Veneto, perché Veneto Strade è espressione di Regione Veneto, tra le altre cose, dove un loro dirigente, un loro funzionario dirigente, quindi un'alta carica, si permette di accusare un comune che poi è completamente estraneo a tutto. Io credo che questo sia vergognoso, ho mandato una lettera chiedendo delle risposte e chiedendo addirittura dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'ingegnere Romanini e alla distanza, che 15 giorni erano un uedì, quindi oggi andiamo verso il ventesimo giorno, non ho ancora ricevuto risposta, non ho ancora ricevuto risposta da nessuno. Se questo è il rispetto nei confronti delle istituzioni, per pur piccole che siano, ma siano sempre delle istituzioni, anche il Comune di Pozzolengo è un'istituzione, innanzitutto chiedo rispetto nei confronti dei miei cittadini e del mio territorio, non si può permettere questo signore di puntare il dito dicendo delle menzogne, perché ha detto delle menzogne. Ma chiedo scusa... E lo ripeto in maniera chiara, mi diano la titolarità dell'opera, il progetto esecutivo e il finanziamento. Io in otto mesi, sei, otto mesi realizzo l'opera. In maniera molto chiara. C'è una cosa che francamente non riesco a capire, a livello tecnico, chiedo scusa da passante, no? Ma lo svincolo c'era. C'era, l'hanno chiuso, perché oggi, tra altre cose, su un'opera di decine di milioni di euro, caro ingegnero Romanini, non stai parlando col primo che arriva, un'opera da decine di milioni di euro, come questa, come quella che avete fatto, ci sono le somme a disposizione, gli imprevisti, chiaro? E le perizze supplettive, che sono il 5%, dove è andato a finire questo 5%? Su un'opera da 30 milioni, il 5% sono un milione e mezzo di euro. O 40 milioni, sono 2 milioni di euro. Dove sono andati a finire? Cosa facciamo? Andiamo dalla Corte dei Conti, gli chiediamo di valutare tutta l'opera, partendo dall'inizio, dalla pratica burocratica, fino a tutti i conti? Non si può fare, non ho nessun problema se continuate a tirare in ballo il Comune di Pozzolengo dicendo queste assurdità. Perché adesso è ora di finirla. Adesso io se non ricevo risposta, andrò, da Sua Eccellenza il Prefetto di Brescia, e chiederò un tavolo tecnico, una conferenza di servizi. Perché credo che oggi sia giunto il momento di dire basta. È ora di finire con questi signori che scaricano responsabilità su d'altri. Ognuno si prende le proprie responsabilità. Se sono stati incapaci di realizzare l'opera o hanno speso i denari in altra maniera, se ne facciano una responsabilità propria. Non scaricare ad altri le loro colpe, o i loro errori, o le loro mancanze. Questo deve essere molto chiaro. Una presa di posizione assolutamente forte. Inoltre abbiamo fatto una conferenza stampa congiunta dieci giorni fa, con il sindaco di Sirmione, dove abbiamo chiarito tutte le posizioni e abbiamo chiarito anche l'iter progettuale. Da cittadino, forse cittadino di Pozzoledone direi, beh, facciamolo a questo punto. Se voglio la guerra... No, ma io ho ribadito che la nostra non è una presa di posizione per porre ostilità o per mettere un muro. No, noi vogliamo l'opera, perché è da due anni che perseguiamo che quest'opera deve essere fatta. Questo svincolo deve essere fatto. Però non accettiamo di essere accusati ingiustamente. Vogliamo chiarezza e vogliamo che l'opera venga fatta. Facciamo una cosa, sindaco. Ci sono dei messaggi per lei. Rispondiamo tra poco. Adesso entreremo in una rubrica tocca a noi, ma comunque è sempre con Paolo Bellini, per cui magari rispondiamo tra poco. Ci fermiamo un attimo. Torniamo tra un paio di minuti.